Tromba d'aria iniziata odierna, 3 novembre 2019, a Lavagna, Citro... Liguria martoriata da questo fulente maltempo, la situazione è piuttosto delicata, la tromba d'aria che si è abbattuta sulla Lavagna ha fatto volare via il tetto di diverse abitazioni, non si registrano al momento feriti, però 9 le persone che sono state fatte evacuare per ogni tipo di precauzione, quindi urgenza. Problemi anche per quanto riguarda la viabilità, la tromba d'aria si è sentita, si è vista in maniera anche abbastanza nitida, anche a distanza o meglio in lontananza. Non è passata di certi inosservata su questo, è poco, ma sicuro adesso bisognerà cercare di capire se può essere aperto o no lo stato di emergenza, ma da come si legge qua su internet potrebbe aprirsi nelle prossime ore. La protezione civile tuttavia ha già fatto sapere che la situazione è sotto stretto controllo, anche se è destinata a peggiorare nel corso delle prossime ore di tempo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, un saluto e a presto da Reandro, narratore italiano.